I trono e i Mijalovic si escrutano attraverso la barriera. 1 a 0 Al 45esimo la scena si ripete idone. E sono due. E ancora non è finita. Al 52esimo l'arbitro Collina fisca una punizione a 35 metri dalla porta di Verona. Il portiere blu cerchiato raccoglie il terzo pallone in fondo alzato. La partita finisce 5 a 2. Io ho fatto tre gol. Allora dopo la partita sono detto il mancio e ho detto il mancio. Tre gol su punizione nella stessa partita è un record da annali del calcio. Potenza e precisione insieme. Un mix micidiale per qualunque portiere. Non solo per Verona. No solo per la partita sono pensato. AppImpostore diosepi.